Sì, alla modifica dello statuto, il Consiglio regionale decreta l'allargamento dell'ufficio di presidenza e la nascita della figura del sottosegretario alla presidenza della regione. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la riforma dello statuto che prevede l'allargamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale a sette membri e la creazione della figura del sottosegretario alla presidenza della regione, che avrà facoltà di partecipazione alle sedute della giunta senza però diritto di voto. La sua funzione sarà quella di ausilio del Presidente della regione, soprattutto per i rapporti tra Consiglio e giunta. 24 i voti a favore della riforma e sono arrivati dai gruppi del PD, di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle. Contrari invece Fratelli d'Italia, la consigliere Elisa Tozzi del gruppo misto e Italia Viva, che pure fa parte della maggioranza. Non hanno partecipato al voto il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani del Partito Democratico e la Lega. Quindi, come si può vedere, è stata un'approvazione contrastata. Ma sentiamo le interviste a partire dal Presidente del Consiglio della regione toscana, Antonio Mazzeo. Io ho sempre cercato di mandare questo messaggio, che lo statuto, come tutte le regole del gioco, bisogna provare a cambiarle a larga maggioranza, non ci devono essere forzature. E' successa però una cosa strana oggi, nel senso che la Lega e Fratelli d'Italia, che alla prima votazione avevano votato favorevolmente, stamani mi hanno comunicato alle 10, prima Fratelli d'Italia, poi anche la Lega che non avrebbero votato. E quindi questo lavoro che abbiamo fatto in questi mesi per arrivare a una larga maggioranza si è poi tradotto in un voto, e anche questo mi ha sorpreso, nel cambiamento del voto del Movimento 5 Stelle. Anche questo deciso in aula, voi stenterete a crederci, ma tutto questo è successo dalle 10 alle 12, mentre stavamo votando. Quindi, nessun cambio di maggioranza. La maggioranza, perlomeno dal mio punto di vista, è solida con Italia Viva. E' evidente che il Movimento 5 Stelle, dopo il voto sui grandi elettori, ci ha mandato un altro messaggio di attenzione rispetto ai lavori istituzionali che noi stiamo portando avanti, ma detto questo non cambia nulla. Vedo purtroppo, e questo mi preoccupa per il funzionamento del Consiglio regionale, una grande frammentazione nel centro-destra. Una grande frammentazione che spero possa essere recuperata, perché noi abbiamo bisogno di far funzionare il Consiglio, non di continuare una perenne campagna elettorale dentro le coalizioni, perché non serve a nessuno. Adesso sentiamo Giacomo Bugliani, presidente della Commissione Affari Istituzionali, che non ha partecipato al voto in polemica con il suo stesso gruppo consigliare il Partito Democratico. Sentiamo le sue motivazioni. Ho deciso di non partecipare al voto della riforma statutaria per due ragioni sostanzialmente. La prima è una ragione di metodo. Quella riforma statutaria era stata licenziata con un contenuto profondamente diverso durante la prima seduta della Giunta regionale, presentata a questo Consiglio, più volte portata da me in prima commissione e più volte fatta saltare da incomprensibili equilibri politici. Finché, a distanza di tempo, quella legge è stata riproposta in una versione completamente diversa e direttamente avvocata ai lavori dell'Aula. Già l'altra volta decisi di non partecipare al voto, perché ritenevo tutto questo un'offesa all'istituzione che rappresentiamo. Ancora oggi ribadisco questo. Lo faccio non soltanto per questo profilo, ma anche per una valutazione di merito. Si è deciso di non dare seguito alla riforma dello Statuto, così come voluta dal Presidente della Giunta regionale, che prevedeva l'allineamento nella composizione della Giunta ai requisiti previsti dalla legge nazionale, con l'argomentazione assolutamente legittima e rispettabile della necessità di contenere i costi della politica. Se quell'argomento aveva un senso in quel momento, deve avere un senso anche oggi. E siccome oggi questa riforma dello Statuto, oltre alla creazione di un sottosegretario che era già nell'impianto originario, prevede un allargamento dell'ufficio di Presidenza, quei costi ci saranno e saranno importanti, collegati soprattutto alle strutture e al personale. E allora, se all'epoca poteva valere quel ragionamento, quel ragionamento a maggior ragione deve valere anche adesso. Fermo restando che reputo assolutamente incongruo un ufficio di Presidenza fatto da sette membri quando il Consiglio regionale ha 40 consiglieri in Aula. Mi pare francamente sproporzionato rispetto alle esigenze della Presidenza dell'Aula. E adesso le altre interviste a partire da quella al Presidente della Regione, Eugenio Gianni. Ho la sensazione che in Consiglio regionale si sia dedicata un'attenzione onestamente eccessiva. Semplicemente era una modifica statutaria che serviva a dare più forza a quello che è il ruolo di governo. Di considerare l'ottavo assessore con un'ulteriore unità, il nono assessore, che veniva considerato dalla legislazione nazionale possibile, ma non dallo statuto regionale. Non so perché ci si deve autolimitare quando la legge nazionale ti consente di avere nuovi assessori prevederne in statuto 8. Però chi allora fece questa norma riteneva evidentemente buona questa autolimitazione e autofrustrazione da parte della Regione. e di prevedere la nuova figura del sottosegretario che esiste già, è molto funzionale, è un po' una figura jolly di supporto al Presidente. Lo vediamo con il sottosegretario Maruffi per il Presidente Bonaccini in Emilia Romagna e l'analogo sottosegretario, ora purtroppo mi sfugge il nome, per la Lombardia. Tutte le regioni la stanno introducendo. è una figura jolly, perché a differenza dei singoli assessori che si occupano di tematiche ben definite per materia e per competenza, il sottosegretario aiuta il Presidente nel rappresentarlo, nel decidere singoli dossier che hanno un rapporto fiduciario di delega fra il Presidente e le singole persone. È una visione moderna. La proposta che io avevo fatto di allinearci alle normative nazionali avendo da 8 o 9 assessori e di avere il sottosegretario è stata raccolta per metà. Però io sono contento perché almeno ho una figura in più che collabora nel Governo della Regione quando fra sei mesi sarà possibile che le procedure burocratiche non lo consentono prima. Ieri in Consiglio se ne è discusso, se ne è parlato, secondo me anche troppo, perché quando la Regione è un ente che dà uno stipendio e ha le sue dipendenze, 4.000 persone, mettersi a discutere perché un consigliere regionale, perché sarà un consigliere regionale che prende quello stipendio, può avere anche la qualifica di sottosegretario. Ecco, non mi sembrava che ci fosse la necessità di prese di posizione, dibattiti, riflessioni sull'ipotetica modalità di fare politica attraverso l'amministrazione regionale che abbiamo vissuto. Però il risultato c'è stato e quindi io sono contento. La mia è una posizione nettamente contraria. Noi siamo andati a stravolgere lo Statuto semplicemente per dar corso a degli accordicchi, così almeno li ho definiti in Aula, che hanno semplicemente lo scopo di dar seguito a degli impegni che evidentemente porteranno ad un aumento dei costi, ad una infornata di dipendenti, di cui in questo momento non c'è bisogno. Io credo che la nostra attività di legislatore debba essere animata da un profondo spirito di formatore. Non si possono stravolgere leggi fondamentali semplicemente per dar seguito, ripeto, a dei meri accordi che di fatto costeranno ai cittadini toscani. Perché è chiaro che l'ampliamento dell'ufficio di Presidenza, una delle modifiche che noi contestiamo più fortemente, perché di fatto porta un organismo interno ad un ampliamento maggiore, senza che per contro si pensi, ad esempio, ad ampliare la questione della rappresentatività territoriale che invece spetta ciascun consigliere. Al contrario, si privilegiano invece questi accordi che nulla portano in più, ma che anzi ai toscani portano esclusivamente dei costi maggiori. Io penso oggi a tutti quei cittadini che non hanno la fortuna né di essere dipendenti pubblici né di aspirare ad esserlo. Penso ai lavoratori Fimer, della Laica, dell'ortofrutticola di Marradi, della GKN, tante crisi aziendali. E oggi noi mettiamo in scena, in quest'Aula, uno spettacolo che io non esito a definire squalido ed irrispettoso nei confronti dei Toscani. Noi abbiamo immaginato questa legislatura come una legislatura costituente, nel senso che in questa legislatura noi abbiamo preso, al di là dell'attività ordinaria sulla quale siamo impegnati da un lato sulla crisi pandemica, che per fortuna piano piano si sta risolvendo, e sull'altro invece sulla crisi economica, che ancora ad oggi non accenna a mollare il freno. L'abbiamo immaginato come una legislatura che mettesse e riordinasse lo Statuto, il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale. Abbiamo cominciato proprio sei mesi fa con la modifica dello Statuto, che oggi è arrivata in seconda lettura e alla sua conclusione. Come Forza Italia, rispetto alla proposta che arrivò dalla Giunta, avevamo sollevato alcune obiezioni. Il non assessore, che avrebbe portato ad un aumento dei costi, il sottosegretario esterno, che avrebbe portato ad un aumento dei costi, mentre eravamo favorevoli all'ampliamento dell'ufficio di Presidenza, perché avrebbe consentito la rappresentanza in quell'organismo, un organismo essenziale per la legislatura e per il funzionamento del Consiglio regionale, la rappresentazione di tutte le forze politiche, delle maggiori forze politiche di opposizione. Ecco perché, rispetto a come era stato presentato e rispetto invece a come è arrivato e quindi accettando le nostre modifiche, oggi abbiamo ribadito il voto favorevole di Forza Italia alla modifica dello Statuto, che consentirà un snellimento di alcune procedure, una velocizzazione dei processi dell'ufficio di Presidenza, una maggior rappresentanza delle forze politiche all'interno di questo contesto. Certo, questo non ci basta. In coerenza rispetto al voto di prima, lo abbiamo votato a favore anche oggi. Ora passiamo alla fase 2, chiamiamola così, che è quella di modifica del regolamento del Consiglio regionale che dobbiamo fare, perché comunque è un regolamento vecchio, obsoleto e molto probabilmente non più attinente alla realtà delle dinamiche politiche di oggi. Da oggi Forza Italia comincerà a lavorare anche su quel regolamento. Italia Viva è l'unico partito del Consiglio regionale che è rimasto coerente in questa battaglia politica. Noi non avevamo un interesse specifico, come magari avevano altre forze politiche, quelle di aumentare il numero delle poltrone a livello regionale. Noi volevamo che la regione toscana migliorasse nel proprio funzionamento di governo. Per questo è una battaglia che è durata in solitaria per oltre un anno, un anno e mezzo. Siamo stati coerenti, eravamo contrari un anno e mezzo fa, abbiamo votato contro anche oggi. Nel frattempo è successo tutto il contrario di tutto. Fra la prima e la seconda votazione abbiamo visto partiti spaccarsi, gran parte dei partiti per cambiare la loro opinione, chi per un interesse di carattere personale, chi per cercare di ottenere qualcosa in un ridisegno di un assetto di governo che non ci convince. Abbiamo chiesto di fermarsi, abbiamo chiesto di fare le cose tutte insieme. Alla fine questa riforma passa per un voto di margine, non è mai successo nella storia della regione toscana, con un così basso numero di votanti che si vada a modificare quella che è la carta fondamentale di una regione, come modificare la Costituzione a livello nazionale. Di questo siamo dispiaciuti, ma nel contempo è coerente della nostra battaglia. Nel merito della questione dicevamo che il nono assessore non serviva, dicevamo che i sottosegretari se hanno un senso di esistere devono essere esterni e non interni e soprattutto ponevamo una questione, quella della parità di genere, che secondo noi è dirimente da istituire in termini statutari per renderla vincolante alla politica. Troppe volte i partiti si riempiono di questo concetto, poi quando è arrivato il momento di votare il nostro emondamento siamo rimasti soli. Però questa è anche la soddisfazione di essere un partito che sarà sempre comunque sentinela del riformismo di questa regione, una regione che deve essere coerente con la propria storia, ma anche con gli impegni presi con i cittadini toscani. Ma è successo un qualcosa che sinceramente non ci aspettavamo di vedere. tanto per fare chiarezza, perché ho letto di agenzie che parlano di centrodestra diviso, è vero i gruppi di centrodestra hanno votato in maniera differente, ma la notizia non è questa, la notizia è che la modifica dello statuto è un qualcosa che interessava alla maggioranza. La maggioranza voleva modificare lo statuto del Consiglio regionale della Toscana per introdurre la figura del sottosegretario, che è un tema che interessa a chi governa. Noi come opposizione avevamo chiesto due cose, che lo statuto non venisse modificato a colpi di maggioranza, ma venisse modificato con l'accordo di tutta l'Aula e che vi fossero anche l'introduzione di alcune forme di tutela per le minoranze, per esempio l'allargamento dell'ufficio di Presidenza a costo zero e l'introduzione quindi di una figura in più a tutelare le minoranze in ufficio di Presidenza. Tutte le forze politiche erano concordi all'inizio su questo percorso, tranne il Movimento 5 Stelle, che fin dall'inizio aveva detto non se ne parla, perché anche le assunzioni, non l'aumento di costi della politica, perché è bene spiegarle le cose, ma l'assunzione di nuovi dipendenti a supporto dell'ufficio di Presidenza, quindi assunzione di persone che verrebbero a lavorare, creazione di nuovi posti di lavoro. Non se ne parla, perché comunque i costi non si aumentano. Stamattina arriviamo in Aula e scopriamo che Italia Viva, che fa parte della maggioranza, è contraria all'allargamento, al provvedimento, alla modifica, che un consigliere regionale del Partito Democratico, che non è un consigliere qualsiasi, ma è il Presidente della Commissione che ha fatto l'istruttoria, è contrario alla riforma dello Statuto. A quel punto, scusateci, ma fratelli d'Italia, questa roba non la vota. Ecco perché abbiamo deciso di votare contrari anche noi. Se la maggioranza non riesce a trovarsi d'accordo all'interno della propria compagine, figuriamoci se possiamo andare noi in aiuto. La cosa surreale è che il Movimento 5 Stelle, che fino a ieri aveva parlato di combattere i costi della politica, anche laddove i costi della politica erano l'assunzione di personale, di ragazzi e di ragazze che avrebbero avuto un posto di lavoro, ha votato a favore, dopo una consultazione col Partito Democratico. Quindi di due cose l'una. O il Movimento 5 Stelle è contrario alle assunzioni quando le fanno gli altri, ma non è assolutamente contrario quando magari ci può mettere bocca, e spero non sia questa, oppure è cambiata la maggioranza in Toscana. E se è cambiata la maggioranza in Toscana, l'Italia Viva non è più in maggioranza, ma vota contro alle proposte di modifica dello Statuto, votate da Gianni, e il Movimento 5 Stelle vota a favore, io chiederei al Governatore della Regione Toscana di venirci a spiegare cos'è successo, perché non è un dato da poco, se l'Italia Viva non sta più in maggioranza e al posto d'Italia Viva ci sta il Movimento 5 Stelle. Di sicuro, Fratelli d'Italia aveva dato la disponibilità, fino a ieri, a discutere di questa modifica, votando a favore, avevamo dato la nostra disponibilità. In caso di accordo e in caso di unità di intenti, di fronte a questa roba, non possiamo che votare, come cosa che abbiamo fatto, contrari e contestare fermamente questo tipo di riforma. Noi stamani abbiamo deciso di non votare, perché riteniamo che comunque ci fosse bisogno, ma forse lo riteneva anche qualcuno del PD, visto che hanno chiesto un'interruzione proprio per questo, di un passaggio, di calmare alcuni animi e di capire se si poteva trovare una soluzione condivisa. E poi il PD è tornato e ha voluto votare, allora noi abbiamo deciso di lasciare a loro il voto e di andare oltre. Certo, oggi è emerso un po' di confusione, sembra che il 5 Stelle sia entrato in maggioranza e sia uscito dalla maggioranza l'Italia viva, stando a quanto vediamo dal voto, anche perché la proposta è in seconda lettura, dalla prima alla seconda non si può modificare. Ed evidentemente il 5 Stelle, che ha votato contrario alla proposta la scorsa volta, oggi ha cambiato radicalmente idea per votarla a favore. Forse ci dobbiamo aspettare che da parte della maggioranza il questore spette a una persona del Movimento 5 Stelle? Può darsi, aspettiamo, magari chiederemo anche l'UMI sul fatto di chi rimane in opposizione e chi va in maggioranza tra di loro. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.